La trattura è come bruciare la sovrastrata, ma questa è recentemente mezza la ricchezza. Gli ascolani, i marchitti, come li chiamavano i nostri abruzzesi, non scendevano mai fino in Puglia, ma approfittavano del tratturo erboso per pascolare. Gli chiamavano i rubapascola. Prima ho avuto macedoni, dopo albanesi e adesso rumeni. L'italiano è neanche a parlarne, non si trova niente. A Babi gli dava 50 mila al mese, a un mese 50 mila, a me niente. La pecore è un animaluccio per chi lo conosce, buono per essere buono, renditizio. Penso che l'ultimo si spoglia lei per vestire a noi. Penso che l'ultimo si spoglia lei per vestire a noi. Penso che l'ultimo si spoglia lei per vestire a noi.